Ciao, belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Per i file di oggi dobbiamo tornare indietro al 30 dicembre 1982. In quella data, a cavallo tra Natale e Capodanno, una ragazzina di nome Katie Beers nasceva in una città chiamata Mastic Beach nel Long Island. Alcuni di voi potrebbero già anche aver sentito parlare di lei, forse potreste conoscerla con il suo nickname con il quale è diventato famoso il caso in America, ovvero The Girl in the Wall, che significa la ragazza nel muro. Ma comunque iniziamo subito a raccontare questa tragica storia. Prima di cominciare realmente però, come al solito vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video e varie altre. Tra l'altro adesso, per via di Halloween, c'è proprio una sezione intera dedicata alla festività, piena di roba figa che sono sicurissimo che vi piacerà. Quindi andate a dare un'occhiata e inserendo il codice sconto Andrew riceverete anche dei calzini a tema in omaggio. Detto tutto questo, finalmente iniziamo davvero. Rapita, aggredita, intrappolata e incatenata. Questa è la fine che ha fatto Katie Beers a soli nove anni. La sua tragica storia iniziò fin da quando era davvero piccola. Quando Katie era appena una neonata, infatti, viene abbandonata dalla madre perché lei non voleva una figlia. A quanto pare Katie sarebbe stata il frutto di una scappatella durata soltanto una notte, perciò di suo padre non si hanno informazioni certe. La sua vera identità quindi rimane ad oggi sconosciuta. Katie quindi viene affidata alla sua madrina, che la maltrattava e la usava come se fosse una sua schiavetta personale. Insieme a loro viveva anche il marito della madrina, un uomo sessualmente deviato e pericoloso. È durante questo periodo a casa della madrina che Katie viene rapita e intrappolata in una specie di prigione sotterranea. Per oltre tre settimane la polizia di Long Island ha cercato e indagato in mezzo ad un groviglio di persone, una più sospetta dell'altra, con la speranza di ritrovare questa povera bambina indifesa. Ma con loro sorpresa questa ragazzina era davvero furba e farà qualcosa di inaspettato, provando tutte le strategie possibili per cercare di salvarsi la vita. Ma per capire questa storia dobbiamo fare un passo indietro. Ci troviamo in un sobborgo di nome Bayshore nel Long Island. È qui che la piccola Katie viveva in una casa piccola e malmessa da quando sua madre l'aveva abbandonata. Viveva insieme alla sua madrina Linda e il marito Sal, come abbiamo già detto in precedenza. Non appena ne fu in grado, Katie veniva costretta a fare ogni tipo di faccenda domestica che solitamente dovrebbe fare un adulto, dal fare il bucato al pulire i bagni fino a cucinare per tutti. Nonostante questo sia davvero strano da pensare, le faccende di casa, anche se molto dure, erano l'ultima delle sue preoccupazioni. In quella casa, infatti, viveva un mostro, ovvero il suo padrino Sal. La parte che sto per raccontarvi è abbastanza forte e quindi per i più sensibili consiglio di saltarla. Katie, fin da quando aveva all'incirca due anni, veniva abusata assolutamente proprio dal suo padrino. Due anni, ragazzi! Gli abusi avvenivano di continuo e nessuno sapeva nulla. Questi, infatti, avvenivano di notte all'insaputa di Linda. L'uomo si allontanava dalla camera da letto sua e di sua moglie per stare insieme a Katie, che era costretta a dormire sul divano. Gli abusi durarono fino a quando la piccola aveva soltanto sette anni. Katie a quel punto decide che ne ha abbastanza e riesce a dire tutto quello che Sal le faceva alla sua madrina. La reazione della donna, però, non era quella sperata e peggiorò soltanto le cose. Linda, al posto di preoccuparsi e prendere immediatamente le difese della bambina per quelle affermazioni pesantissime, come avrebbe fatto qualsiasi genitore sano di mente, le dice che non credeva ad una sola parola di quello che stava dicendo. Disse anche che lei era una bugiarda e di non dire mai più quelle sciocchezze a nessuno. Katie, essendo costretta a fare tutte queste cose, non aveva mai frequentato la scuola, se non rarissime volte, ed era quindi cresciuta completamente isolata. L'unico amico che Katie diceva di avere era John Esposito, il tipico amico di famiglia dei genitori. Ma per lei la loro relazione era speciale, non aveva amici della sua età, e quando passava del tempo insieme a John era semplicemente felice. In mezzo a tutti quegli abusi, come se già non fosse abbastanza, la vita di Katie stava per prendere una svolta ancora più tremenda. Due giorni prima del suo decimo compleanno, Katie viene rapita. Quel giorno infatti la bambina si trovava da sola con John. I due erano andati allo Space Plex, una specie di sala giochi, nonché il posto preferito di Katie. Quando andavano in quel luogo, Katie si sentiva finalmente una bambina normale. Giocava insieme ad altri ragazzini della sua età ed era libera, senza pensieri. Ma il suo compleanno si stava presto per trasformare nella cosa peggiore che le fosse mai capitata. Quella voce che sentiamo alla fine della chiamata pronunciare Katie è Linda, la sua madrina. Una volta ricevuta questa chiamata agghiacciante, contatta immediatamente la polizia. Ma quando arrivarono a Space Plex da John, la bambina era scomparsa. I poliziotti evacuarono subito la zona in cerca della bambina e la cercarono tutto il giorno. Ma nulla, di lei non c'era più alcuna traccia. Tutti gli sforzi erano inutili. Ma cosa le era successo quel lunedì 28 dicembre 1992? Ebbene alle 6 di quel pomeriggio un individuo era riuscito a rapirla e a portarla in un luogo isolato da chiunque. Katie racconterà di come la portò a casa sua e dentro ad un armadio c'era una porta che portava dei tunnel. Chiunque l'aveva rapita era sicuramente un individuo estremamente preparato. Quel tunnel dietro al muro di casa sua, infatti, sembrava costruito con cura da un esperto. Katie era stata costretta a gattonare fino a raggiungere una botola. All'interno della botola la bambina si trova davanti ad una stanza. A suo interno c'era soltanto un materasso sporco e alcune catene in ferro. Linda comunque non sembrava scossa più di tanto dalla chiamata di sua figlia il giorno del suo rapimento. Questo fece insospettire una persona in particolare, ovvero Dominic Verrone. Lui era un pezzo grosso nel campo dell'investigazione. Dominic, infatti, era il capo della divisione rapimenti della polizia di Long Island all'epoca. Essendo abituato a trattare casi di rapimento, Dominic sapeva che molto spesso questi casi vengono soltanto inscenati. E statisticamente aveva ragione. Secondo una ricerca, il 95% dei rapimenti sono in realtà fatti da familiari stretti. Questa però non era l'unica cosa insolita di quella chiamata, secondo Verrone. Si chiedeva come avesse fatto una bambina di 9 anni ad allontanarsi dal rapitore senza essere notata e usare addirittura un telefono. Ma per ora doveva mettere da parte tutti i suoi sospetti. La priorità era Katie. In questi casi, ogni minuto che passa può fare la differenza per il ritrovamento della persona scomparsa. Gli agenti cercarono ogni possibile prova allo Space Plax. Interrogarono molti dei presenti, ma non c'era assolutamente traccia di Katie. Sembrava quasi come se non fosse mai stata lì. L'unico indizio che potevano esaminare era la registrazione di quella chiamata agghiacciante fatta proprio dalla bambina. Verrone pensa che la polizia da sola ci avrebbe messo troppo tempo e decide quindi di coinvolgere l'FBI. Manda loro le cassette audio con la registrazione della chiamata per esaminarla. Perché l'FBI ovviamente aveva dei mezzi molto più avanzati dei loro. E se avessero trovato qualcosa sarebbe potuta essere la svolta per il caso. Comunque mentre aspettava i risultati, Verrone non rimane con le mani in mano. Continua ad indagare esaminando le persone che secondo lui erano sospette. I primi della lista erano Marilyn Beers, la madre biologica di Katie. Linda Inghilleri, la sua madrina. E Sal Inghilleri, il suo padrino. Tutti membri stretti della famiglia insomma. Ma c'era anche un quarto sospettato. Ovvero l'ultima persona ad aver visto Katie prima del rapimento. John Esposito. L'uomo non faceva parte della famiglia ma era un amico molto stretto. E riguardo quella sparizione l'unica cosa che disse fu È successo qualcosa di sporco. L'FBI alla fine condivide con il dipartimento di Dominic quello che erano riusciti a trovare grazie alle loro tecnologie all'avanguardia. Secondo quanto era emerso sembrava che la chiamata di Katie fosse stata fatta da una cabina telefonica proprio di fronte allo Space Plex. Il che è strano visto che nessuno l'aveva vista e non avevano trovato traccia di lei all'interno del centro. Oltre a questo l'FBI riuscì a scoprire una cosa fondamentale per il caso. Dopo aver effettuato un'analisi audio della telefonata scoprono una cosa incredibile. Quella che sentivano non era la voce di Katie. Vi spiego meglio. Quella era la voce di Katie ma proveniva da un nastro registratore. Qualcuno quindi aveva registrato su un nastro la voce di Katie e ha voluto far credere che la chiamata provenisse dalla cabina telefonica davanti allo Space Plex. I detective iniziano a mettere insieme i pezzi e a quel punto è evidente che la persona che stava dietro a quel rapimento stava cercando di depistare le indagini. Il rapimento di Katie è stato messo in scena per nascondere qualcosa di molto più terribile. Tornando alla botola Katie sapeva che le stava per accadere qualcosa di brutto e decide che avrebbe combattuto più duramente che poteva. D'altronde era abituata alle situazioni difficili e in nessuno di questi casi si era mai arresa. Katie nota che la barra che teneva chiusa la porta era allentata e cerca un modo per aprirla. Aspetta che il suo rapitore esce di casa e comincia a prenderla a calci più forte che poteva. Fortunatamente dopo un po' la barra che teneva bloccata la porta si apre e riesce ad uscire da quel buco. Per lei questa era una svolta tale che ha subito pensato di essere finalmente libera di scappare. Dimenticandosi però che si trovava incatenata in una specie di labirinto. Non poteva andare da nessuna parte in quelle condizioni. Appena fuori da quella stanza però c'era un armadio. Cerca qualche oggetto con cui avrebbe potuto eventualmente difendersi ma trova soltanto delle chiavi. Katie allora decide di prenderne una e nasconderla sotto il suo letto. Prima che potesse fare qualsiasi cosa però sente che l'uomo stava tornando a casa. I passi erano sempre più forti e quindi l'uomo era sempre più vicino. Appena arrivato in quel buco Katie fa finta di nulla ma purtroppo per lei le cose sarebbero andate comunque peggio. L'uomo proprio quel giorno abusa di Katie e dopo quell'episodio per il resto del tempo passato in quell'inferno il suo rapitore l'avrebbe maltrattata e abusata più volte anche nello stesso giorno. In quella stanza terribile l'unica cosa che teneva compagnia a Katie durante le giornate era la tv. La guardava 24 ore su 24 e grazie a questa viene a conoscenza che le autorità la stanno cercando e scopre anche tutte le novità sul caso. Grazie alla televisione è stata anche in grado di ascoltare le testimonianze di tutti i membri della sua famiglia compresa quella di Marilyn, la sua madre biologica. Quando Katie vede Marilyn scoppia a piangere. Dopo tanto tempo che non la vedeva ha detto di aver sentito subito una forte connessione e sentiva guardandola negli occhi che le mancava davvero sua figlia e che voleva che la trovassero al più presto. In quel momento questa cosa diede molta forza a Katie e in qualche modo anche un po' di speranza. Marilyn era convinta che Linda e Sal erano coinvolti nel suo rapimento. I due infatti avevano perso la custodia di Katie dopo che lei aveva sporto denuncia verso Sal per aver abusato della piccola. Quindi tutto ciò era molto sospetto ma per Verrone questo non era abbastanza per giungere a delle conclusioni. Lui infatti aveva anche buone ragioni per credere che oltre a Marilyn che era la principale sospettata ci fosse qualcun altro ad aiutarla. Dopo un po' però le indagini sulla famiglia non portarono a nulla. Ognuno di loro aveva degli alibi molto solidi. Oltre a questo vengono anche analizzate le case in cerca di qualche prova. Ma nulla, nessun nuovo indizio. Così la polizia inizia ad indagare sull'ultimo sospettato della lista, quello meno considerato fino ad allora. Gli investigatori ripercorrono quindi gli ultimi spostamenti di John e nel giro di poco tempo riescono ad ottenere un mandato di perquisizione per controllare casa sua. Anche qui gli agenti controllano ovunque e fanno un'ispezione completa della sua residenza ma nulla. Nessuna prova del crimine era stata trovata. Richiesero anche i precedenti dell'uomo e non tardarono ad arrivare. Il giorno dopo infatti arrivarono i risultati ma trovarono qualcosa di molto sospetto. Dopo aver contattato la Big Brother Big Sister Association, il programma di cui John diceva di far parte e di cui andava molto fiero, scoprono una cosa diversa da quello che diceva lui. John infatti aveva cercato di entrare a far parte di quella organizzazione, ma non era stato accettato. L'associazione infatti scopre che John aveva dei precedenti penali gravissimi. Circa 15 anni prima della scomparsa di Katie, John era stato coinvolto nel rapimento di una bambina di 7 anni. Questa scoperta, che doveva rimanere soltanto un'informazione per quelli che facevano le indagini, trapela e decine di giornalisti iniziano a girare intorno a casa sua per cercare di strappargli qualche dichiarazione. E in effetti avevano ragione. Il rapitore era proprio lui. Quell'uomo che Katie chiamava il suo miglior amico. Mentre si fingeva bravo e innocente, in realtà stava pianificando di rapirla. Katie in un'intervista dirà che dopo tutti gli abusi subiti dal padrino, non avrebbe mai pensato che John avrebbe potuto farle del male. Ma torniamo invece alla piccola Katie intrappolata in quel buco. Lee continuava a guardare la televisione ed era sollevata del fatto che la polizia fosse finalmente sulla strada giusta. A questo punto però gli agenti non avevano comunque nulla per incriminare John, nessuna prova schiacciante e ancora peggio non avevano nessuna idea su che fine avesse fatto fare a Katie. Oramai avevano perso le speranze e pensavano che a quel punto Katie era già morta. Pochi giorni dopo però la bambina si sveglia nella prigione come ogni giorno. John le aveva messo una catena al collo, ma Katie si rende presto conto che la chiave che aveva preso dal mobile era un doppione per aprire quel lucchetto. Come avrete capito ormai Katie non era una ragazzina qualunque, era davvero molto sveglia, sapeva che non doveva farsi scoprire. Così prima di liberarsi da quelle catene per andare in giro e cercare qualche soluzione per scappare, fa una cosa intelligentissima. Inizia a contare il numero di cerchi a cui era legato il lucchetto e prima che John tornasse a casa si rilegava nella stessa identica posizione in cui l'aveva lasciata. John però inizia a tornare in quel luogo sempre meno. Visto che la polizia era convinta che ci fosse lui dietro a tutto questo, lo pedinavano di continuo e non lo lasciavano quasi mai da solo. Comincerano anche a fargli numerosi interrogatori e anche lo stesso Verrone lo aveva interrogato. Diceva che mentre lo interrogava riusciva a percepire la preoccupazione di John e lo trovava molto turbato da qualcosa. Non aveva vie di fuga, sapeva quello a cui stava andando incontro. John a questo punto comincia a fare delle richieste disperate a Katie. Le chiese di far finta di essere morta così avrebbe scattato delle foto e le avrebbe mandate alla polizia in modo anonimo. In questo modo secondo lui gli agenti alla vista di quelle foto avrebbero chiuso il caso o come minimo l'avrebbero escluso dalle indagini. Katie però si rifiuta di fare quelle foto e anzi a quelle richieste si spaventa decisamente tanto. Sapeva che se quel piano avesse funzionato davvero per lei sarebbe stata la fine, perché poi l'avrebbe uccisa davvero. Inizia così a smettere di mangiare quello che l'uomo le portava per paura che all'interno ci potesse essere qualche sedativo. E smette anche addirittura di dormire. Oltre a questo decide anche di affrontarlo. Comincia a fargli centinaia di domande per cercare di fargli capire la follia che c'era dietro a quello che stava facendo. Gli chiede come avrebbe fatto poi ad andare a scuola, con chi avrebbe avuto dei figli, con chi si sarebbe sposato una volta cresciuta. John a queste domande rispondeva che avrebbe fatto queste cose con lui, ma lei gli rispondeva che non voleva assolutamente. I giorni passavano e tra la pressione che gli metteva la polizia e le incessanti domande di Katie, a cui non sapeva rispondere veramente, l'uomo comincia a tentennare. Confida alla piccola che stava progettando di uccidersi o scappare via il più lontano possibile. La ragazzina però sapeva che se avesse deciso di scappare probabilmente l'avrebbe uccisa o lasciata in quella stanza a morire. Un'altra volta quindi, le viene un'idea geniale. Katie gli dice che si stava sentendo molto male e che probabilmente era malata, e questo si aggiunge alle altre cose che stavano mettendo pressione a John e lo logoravano dall'interno. Dopo qualche giorno, l'avvocato di John riceve una chiamata inaspettata. Era proprio lui a chiamarlo e al telefono gli dice, ho qualcosa di molto importante da dirti. So dov'è Katie. L'avvocato rimane impietrito e sconvolto, non riusciva a capire. Gli chiede quindi cosa intendesse dire e lui risponde, lei è dietro il muro. È qui che Verrone e tutti gli altri coinvolti nel caso hanno capito che John Esposito non era il solito rapitore, ma una vera e propria mente contorta. Esposito scorta la polizia e gli agenti in quel labirinto che aveva costruito nel quale si trovava Katie. E se dico labirinto è perché davvero si trattava di un labirinto. Per entrare infatti bisognava eseguire 30 passaggi, uno più complicato dell'altro. Pensate a quanto tempo ci aveva messo John per costruire tutta questa struttura. E mi sorgono anche altre domande. Aveva preparato questa cosa appositamente per Katie o era destinata a qualcun altro? E se era per qualcun altro, forse era già stato là dentro. Quando Verrone finalmente entra in quel buco per liberare Katie, lei non riusciva a credere a quello che stava accadendo. Gli agenti cercavano di tranquillizzarla dicendole che era al sicuro. Furono molto sorpresi perché nonostante quello che aveva passato, si trovarono di fronte a una ragazzina di 10 anni che sembrava appena tornata da una gita al cinema. Era seduta sul divano piena di energia e molto ottimista. Loro ancora non sapevano quello che le era davvero accaduto in quel posto infernale. Ma John Esposito confessò tutto quello che aveva fatto e venne quindi processato. Al termine del processo viene condannato ad un minimo di 15 anni di galera. Esposito però è morto nel 2013 in una prigione nel Westchester. Grazie a degli interrogatori fatti a Katie vengono anche scoperte tutte le cose terribili che era costretta a subire prima del rapimento dalla sua madrina e suo padrino. Viene quindi tolta dalle mani di quei due mostri che la trattavano in quel modo disumano e viene affidata ad un'altra famiglia e questo secondo Katie è stata la sua vera salvezza. Finalmente aveva una mamma, un papà, dei fratelli e delle sorelle che la amavano davvero. Per via delle sue dichiarazioni avviarono anche delle procedure illegali contro il patrigno Sal che venne condannato a scontare una pena dai 4 ai 12 anni di prigione, luogo in cui morirà nel 2009 prima di aver scontato la sua condanna. Dopo tutta questa storia Katie e Verrone rimasero amici e lei tuttora dichiara che sarà per sempre grata a lui perché non si è mai arreso ed è grazie al suo aiuto se è riuscita ad essere di nuovo libera. Katie infatti è diventata madre di due figli, è felicemente sposata con un uomo di nome Derek ed è diventata una scrittrice di successo. Da diversi anni ormai porta avanti il messaggio che nonostante nella vita capitino cose orrende c'è sempre la possibilità di fare qualcosa al riguardo e si dice determinata a non lasciare che i suoi traumi infantili la definiscano perché lei è più di quelle cose orrende che le sono capitate. Oggi Katie è ricordata come la ragazza nel muro che pur essendo un nome davvero strano riassume perfettamente quello che è successo. E quindi niente, per una volta sono contento che la vittima si sia salvata stia bene, sia felice e finalmente per una volta succede così. E secondo me tra l'altro dalla sua storia possiamo trarre un grandissimo insegnamento. È proprio vero che nonostante tutte le cose brutte che possono accadere possiamo rialzarci e definirci in un'altra maniera. Detto tutto questo io spero che il video vi sia piaciuto come al solito vi ringrazio di essere stati qui e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! 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 Grazie per la visione!